Allora, ovviamente ringrazio il Consigliere Terranova e il Presidente Terranova proprio per i chiarimenti che sono stati dati. Volevo soltanto aggiungere, proprio a conferma di quanto detto dal Presidente Terranova, che le variazioni di bilancio sono uno strumento tipico proprio dell'amministrazione e sono previste dal TUEL proprio per questo. Ricordo che in realtà le risorse vengono impegnate nel momento in cui si liberano. Quindi anche per quanto riguarda fondi che non sono di competenza d'amministrazione, che sono erogati da soggetti terzi, è necessario prima accettare l'autorizzazione, avere un'autorizzazione da parte di talienti e solitamente non arriva mai nei termini nei quali poi viene approvato il bilancio di previsione. Pertanto è necessario ricorrere quindi a una variazione di bilancio. Questo riguarda sia per quanto concerne la parte delle entrate e conseguentemente, siccome ogni risorsa noi la vogliamo impiegare, la destiniamo successivamente alle opere che, se sono vincolate, chiaramente vengono finanziate e, nell'altro caso, a tutto ciò che interviene nel corso della vita amministrativa.